Valorizzare con ogni mezzo ed iniziativa la battaglia di Curtatone e Montanara del 29 maggio 1848. Questo l'obiettivo del Comune di Curtatone, che ha deciso di realizzare un docufilm ed un fumetto per raccontare a turisti, studenti e cittadini una delle pagine più importanti della storia del territorio. Quest'anno abbiamo voluto lavorare su altri tipi di modalità, di far conoscere questo straordinario evento molto identitario del nostro territorio e quindi grazie a dei contributi che abbiamo avuto la capacità di andare a intercettare stiamo realizzando un fumetto grazie alla cooperativa Carta e Beatrice Grossi nel quale spiegare anche ai ragazzi e alle scuole in modo un po' più, tra virgolette, leggero quella che è stata un'importantissima battaglia che connota in modo molto forte il nostro territorio. E in più, recentemente abbiamo anche avuto un contributo dalla Fondazione Banca Agricola Mantovana per la realizzazione di un docufilm, un docufilm che servirà anche dal punto di vista ovviamente didattico ma soprattutto anche per cercare di provare a comparare un po' i territori che sono stati i scenari della battaglia di Curtatone e Montanara e compararli con quelli che sono oggi. Quindi due modi differenti per cercare ancora di più di insistere a far conoscere quella che è l'importantissima battaglia di Curtatone a Montanara. Un'iniziativa questa che vedrà la sua realizzazione entro le prossime celebrazioni della battaglia. 6.000 euro i fondi messi a disposizione per il fubetto e 5.000 grazie a Fondazione Banca Agricola Mantovana per i docufilm. Progetti questi che arrivano dopo un'altra importante iniziativa voluta dalla Giunta Bottani per valorizzare la battaglia, il premio Curtatone e Montanara. Andato al prefetto capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli e dal giornalista Ferruccio De Bortoli.